Oggi conoscerete una persona che credeva che la vita non avesse alcun senso, proprio nessuno, e con questa scusa usava Twitter per attirare delle persone innocenti nel suo minuscolo appartamento. Un appartamento che sarà causa dello shock di tutto il Giappone. Ciao belli d'ezio, sono Andrew e anche questo venerdì sono pronto a raccontarvi una storia da brividi. Se vi piacciono le cose oscure, macabre e misteriose siete nel posto giusto perché questo è tutto ciò di cui parliamo qui. E per i file di oggi siamo di nuovo nel mio amatissimo Giappone. Però prima di parlarvi di questa persona a dir poco orribile, devo ricordarvi che su Pampling, lascio il link nei commenti, trovate tutte le magliette che indosso nei video. Tutte queste grafiche sono disponibili non solo per magliette ma anche per felpe, calze, cappelli, zaini, costumi, c'è tipo un sacco di roba. E ovviamente mettendo il codice Andrew riceverete anche delle calze a vostra scelta, totalmente in omaggio. Ogni tanto devo ricordarvelo perché Dai è lo sponsor del canale dagli esordi praticamente, quindi dobbiamo mostrargli un po' di amore ogni tanto. Come vi dicevo prima, siamo finalmente di nuovo in Giappone. Non avete idea di quanto mi piace parlare di Giappone anche se si parla di cose brutte. Infatti, ormai dovreste saperlo, il paese del sollevante ha ospitato alcune tra le più atroci vicende mai accadute. E su questo canale in passato ne abbiamo affrontate tante. Come sapete in quella parte di mondo non vengono commessi tanti delitti, per cui quando ne accade uno diventa quasi sempre un caso mediatico che fa tanto scalpore e orrore. Ecco, la storia di oggi non farà eccessioni. È la storia di Takahiro Shiraishi, il soprannominato killer di Twitter. Ma come al solito, cominciamo dal principio. Questa storia, ragazzi, è davvero disturbante. Ci troviamo a Zama, una città con circa 130.000 abitanti della prefettura di Kanagawa, abbastanza vicino a Tokyo. Il nostro sfortunato protagonista, Takahiro, nasce il 9 ottobre del 1990 e cresce con i suoi genitori e la sua sorella più piccola. Durante gli anni di scuola non ha mai spiccato, ma non era neanche così terribile in realtà. È una cosa molto rara nelle storie che racconto, ma questa volta assistiamo ad una persona che almeno ha l'apparenza e almeno inizialmente sembra essere normale. Frequenta la scuola come tutti i suoi compagni, non viene mai bocciato, non salta mai una lezione e in sostanza si impegna, fa quello che può. La media dei suoi voti però non è altissima e sapete quanto i giapponesi ci tengono ad avere i voti alti. Ve ne ho parlato meglio proprio nell'ultimo video che ho fatto in cui parlavo di Giappone se non l'avete visto recuperatelo dopo di questo perché anche quello... Comunque, anche se Takahiro non è il primo della classe, non è neanche l'ultimo. È un ragazzo come tanti altri, uno qualunque, quasi dimenticabile. Oltre alla scuola, durante l'infanzia fa anche un po' di sport, pratica baseball e atletica. Di fisico è magro, ma sviluppa una forza abbastanza importante, di sicuro sufficiente a fare quello che farà. E vabbè, anche nello sport non è che sia il massimo, ma non è neanche terribile. Cioè vive in questa sorta di equilibrio costante, in cui non arriva mai tra i migliori, ma non è neanche mai tra i peggiori. Se la cava sempre in un modo o nell'altro. E le persone che lo conoscono dicono anche cose positive su di lui. Chiaramente, come tutti noi, anche lui ha i suoi difetti. Ma in questo periodo non sembra essere una persona sgradevole. Forse è un po' taciturno, ma sa essere un buon amico. Anche qui torna questo suo assillante equilibrio. Non è troppo un buon amico e non è neanche troppo poco un buon amico. Eppure già vi dico di una particolarità che dovrete ricordare più avanti. Dovete sapere che Takahiro, per quanto tranquillo e nella media in tutto, ha un modo di scherzare con i suoi amici molto curioso. Tutti loro, quindi non solo lui, anche gli altri, per divertirsi, si stozzano. Letteralmente. Il che è strano e preoccupante, ma pare che fosse solo una sorta di gioco. Niente di serio. Una di quelle cose che si fanno da ragazzi senza reali interesse o attenzione. Cioè, sarà capitato a tutti da giovani di far parte di un gruppo di amici in cui si scherza in modo pesante. Ecco, è più o meno la stessa cosa. Questo tipo di atteggiamento lo avevamo visto anche nel caso delle bestie di Satana, video che vi metto qui da qualche parte. In quel caso, quei ragazzi però facevano delle vere e proprie sfide e delle prove di coraggio. E anche, vabbè, dei veri e propri riti d'iniziazione in cui mettevano anche a rischio la loro vita. Quindi decisamente peggio dello strozzarsi per gioco. Che non è un gioco, non fatelo. Ma torniamo a Takahiro. Ecco, mentre sta per finire il liceo, i suoi genitori decidono di divorziare. E sembra che questa cosa gli abbia provocato molto dolore. L'ha presa proprio male. Ma nonostante tutto, nel 2009 si diploma e comincia a lavorare in un supermercato locale. Lavorerà lì per ben due anni. Dico ben perché, dopo di che, pare che cominci ad avere difficoltà a tenersi un lavoro. Infatti comincia un po' a saltellare tra un lavoro e l'altro. Inizialmente lavora in una fabbrica di alimenti, poi in un centro scommesse in cui ci sono giochi d'azzardo. E poi però trova qualcosa di davvero promettente per la sua carriera. Fa un vero salto in avanti, se fosse legale. Cioè, si immerge nel mondo a luci rosse. In sostanza diventa una figura importante che gestisce le donne che lavorano al servizio dei clienti. Capitemi. Per cui comincia a lavorare nel quartiere a luci rosse di Tokyo, che si chiama Kabukcho. In questo quartiere ci sono molte figure come la sua. Quindi, ecco, non si tratta di un lavoro così tanto inusuale. In particolare, la sua mansione è quella di una sorta di talent scout. In pratica, deve reclutare i giovani donne che secondo lui sono adatte da inserire nell'industria del... Però devo precisarvi che da come viene descritto, il quartiere Kabukcho non è niente di chissà quanto spinto o scandaloso. Cioè, non immaginatevelo come un posto losco, sporco o appunto scandaloso. Non è niente di tutto questo. Poi figuratevi, in Giappone si nasconde con prudenza ogni cosa che riguarda l'intimità. Per cui, ecco, è un quartiere come un altro, ma in cui si possono trovare anche delle attività particolari. Tutte molto discrete, ovviamente. Ci sono bar a tema, pub di tutti i tipi, e anche i famosissimi Love Hotel, che sono degli alberghi dove le persone non passano quasi mai l'intera notte. Ci passano qualche ora, di solito. Infatti si paga proprio a ore, perché, insomma, ci vanno per fare le cose loro. Capitemi anche qui. E a quanto pare, quel quartiere, Kabukcho, è un quartiere che non dorme mai, ma è durante la notte che davvero prende vita. E anche nei modi peggiori. Perché purtroppo, stando a quanto ho letto, lì la notte è solitamente presente anche la Yakuza, ossia la mafia giapponese. È possibile trovare giri di spaccio di ogni tipo, merce di contrabbando e altre cose illegali, però diciamo che bisogna cercarle. È comunque tutto un po' nascosto. Per cui, in poche parole, il nostro tranquillissimo Takahiro passa da riempire gli scaffali di un supermercato a questo mondo molto controverso. Un mondo in cui, per oggi, erano decisamente più soldi. Però dai, diciamo che è un po' una cosa strana. O almeno io l'ho trovato strano, perché, mentre leggevo questa storia, mi sono chiesto come cavolo ha fatto un tizio tranquillo, normalissimo, come Takahiro, a ritrovarsi così bene in un quartiere così. È strano, se ci pensate. Boh, la prima cosa che mi è venuta in mente è che magari ha trovato un contatto nel lavoro precedente, quindi quello nel centro delle scommesse con i giochi d'azzardo. Ma vabbè, è solo una mia ipotesi. Fatto sta che Takahiro sembra trovarsi molto bene, ma irrimediabilmente sembra anche cambiare un po', proprio di carattere. Ricordate tutte le parole usate per descriverlo? Ecco, dimenticate ogni cosa. Takahiro cambia completamente e diventa in fretta una persona crudele. Forse lo è sempre stata, ma questo lavoro gli ha permesso di capirlo ed esternarlo. E molto presto, le persone vicino a lui se ne renderanno conto. Tanto per cominciare, il suo lavoro non sembra essere proprio legale. Come Talent Scout, tra virgolette, inganna le giovani donne e le fa entrare nel giro del mondo a luci rosse contro la loro volontà. Oppure, visto che siamo in contesti mafiosi, fa loro delle proposte che non possono rifiutare. Alcune di queste donne, infatti, ritraggono Takahiro completamente cambiato rispetto ai tempi della scuola. Lo vedono come un uomo spietato, crudele e vendicativo, oltre che eccessivamente ambizioso, cosa che non era mai stato fino ad allora. Qualcun'altra invece spiega che Takahiro sa come essere gentile ma continua dicendo che sta sviluppando un morboso interesse per una cosa in particolare. La morte. Compreso anche l'auto-elettismo. Infatti comincia a tagliarsi e, in qualche modo, gli piace un sacco. E questo è decisamente un campanello d'allarme. Alcune fonti fanno intendere che sia proprio appassionato al mondo della morte, ma anche del dolore in generale. Quindi probabilmente anche a cose molto macabre. Non entro nei particolari ma potete immaginare cosa gira attorno al mondo del dolore. Se poi ci aggiungiamo anche la sfera intima, spesso accade il peggio. Ne abbiamo proprio parlato da poco nel video di Albert Fish. Ma comunque è incredibile immaginare il pacato Takahiro perso nei meandri di queste pratiche pericolose. Cioè, come ha fatto a ridursi così? Ovviamente ragazzi, non voglio fare ramanzina a nessuno né dire cosa è giusto e sbagliato, ma il problema, come sempre in questi casi, è l'ossessione nel fare del male agli altri per puro godimento e soprattutto farlo in maniera non consensuale. E questo è il vero problema, perché se c'è reciproca volontà da entrambe le parti e si rimane nel legale, ovviamente, non c'è niente di male e non c'è un vero problema. Ma il punto è che in questo caso non è così. E Takahiro non sembra neanche pensare che questa sua nuova ossessione possa essere un problema. Ma cavolo lo è, come? E se ne sto parlando io sapete già che andrà a finire male. Ma comunque nel febbraio 2017 il ragazzo viene arrestato proprio a causa del suo lavoro e viene condannato a soli 14 mesi di reclusione. Ma questa condanna viene sospesa per 3 anni e non sono riuscito a trovare il motivo. Quindi Takahiro si vede costretto a lasciare il quartiere a luci rosse di Tokyo e decide di tornare da suo padre. Dato che i suoi si erano separati anni prima, sua sorella più piccola e sua madre sono chissà dove per i fatti loro da qualche parte e per questo non avrebbero mai più rivisto Takahiro. È una situazione che non è finita molto bene, ecco, si sono proprio allontanati molto. Mentre con suo padre invece il ragazzo va d'amore d'accordo e la loro convivenza sembra giovare ad entrambi. Suo padre infatti ha un'officina tutta sua e Takahiro spesso va ad aiutarlo. Passano molto tempo insieme, cenano insieme e in generale insomma si trovano molto bene. Però la sua passione per la morte e per tutte le cose schifose che ci girano attorno ricomincia a farsi sentire. Tanto che nell'estate del 2017 comincia a chiedersi perché sia ancora vivo. Praticamente comincia a vedere la vita come un qualcosa di completamente insensato, qualcosa di inutile ma anche fragile e frivolo. Mentre per la morte, per il dolore e per la sofferenza prova un appagamento mai provato prima. Niente per lui ormai è paragonabile a queste cose. Cose che gli fanno provare delle sensazioni che mai nulla era riuscito a fargli provare. Comincia quindi a pensare che quella sia la sua vera e unica ragione di vita. Per questo sente il desiderio di restare solo e di sentirsi libero di sfogare le sue fantasie che per lui ormai sono diventate necessarie. Anzi oserei dire addirittura vitali. Per tutti questi motivi trova un appartamento microscopico nella città di Zama a poco più di un chilometro da dove è cresciuto e suo padre gli fa da garante per permettergli di aggiudicarsi l'alloggio. Quindi lo aiuta molto in questo processo e col senno di poi direi che non era il caso lasciare da solo un individuo del genere ma sono convinto che Takahiro quando viveva con suo padre non aveva mai esternato le cose orribili che gli passavano per la testa per cui il padre giustamente non sospettava nulla e lo ha semplicemente aiutato anche perché era ora che diventasse indipendente. Dai ci sta. Quindi non poteva immaginare cosa stava accadendo nella psiche di suo figlio e infatti ritrovandosi in completa solitudine i demoni nella testa di Takahiro si fanno sempre più reali ora il desiderio di morte diventa per lui una necessità impellente come la fame o la sete e il mezzo che decide di usare per soddisfare questa necessità è internet o meglio twitter siamo arrivati al punto di rottura da questo momento farà di tutto per realizzare i suoi più oscuri desideri Takahiro si crea un profilo twitter e usa l'username Hanging Pro come immagine del profilo sceglie un ragazzo anime con delle ferite da taglio ai polsi e al collo cominciamo bene nella descrizione del profilo spiega di voler aiutare chi è in difficoltà informa i suoi follower che possono contattarlo in privato nei DM e farsi aiutare da lui in uno dei suoi post più famosi spiega che le persone che vuole aiutare sono le persone vittime di bullismo o che comunque hanno sofferto a causa di altre persone si spaccia per qualcuno in grado di dare una mano e da un punto di vista superficiale può sembrare una cosa bellissima e anche sincera però è strano Takairo vuole aiutare qualcuno è molto strano infatti non è così o meglio dal suo punto di vista è così lui è sincero pensa davvero di aiutare gli altri peccato che il suo sincero aiutare non è normale ha intenzione di dare una mano alle persone a farsi del male quindi nella sua testa è aiutare perché lui vede il dolore come una cosa positiva ma chiaramente non è un aiuto anzi vuole sostanzialmente girare il coltello nella piaga anche letteralmente e in altre parole vuole aiutare le persone autoniste a suggerirsi vi rendete conto? nel suo profilo twitter pubblica un sacco di post sui gattini per qualche motivo ma anche roba che riguarda l'autonismo e ovviamente invita a continuare a scrivergli in privato specialmente se sei una persona frustrata e depressa per qualche motivo lui è sempre lì per aiutarti e purtroppo qualcuno finisce per accettare questi suoi macabri aiuti a proposito di questo ragazzi mi sembra doveroso dirvi che se avete pensieri estremi praticate autolesionismo vi sentite in qualche modo vuoti e pensate che la vostra vita non abbia un senso c'è chi può aiutarvi questi pensieri vanno capiti e affrontati e dovete assolutamente rendervi conto che avete bisogno di una mano tutti hanno bisogno di una mano e non c'è niente di cui vergognarsi chiedete aiuto ad amici e familiari in primis e poi anche dei professionisti e nel caso in cui non vi sentiste a vostro agio a parlare di queste cose con qualcuno che conoscete ci sono varie risorse gratuite e riservate che potete utilizzare ve le lascio scritte sia qui nel video che in descrizione è una cosa molto seria fidatevi di me se avete qualcuno di questi pensieri chiedete una mano possono aiutarvi davvero non siete soli per cui ecco ci tenevo molto a spendere due parole sull'argomento perché è una cosa che indirettamente ha toccato anche me e so che due parole possono sembrare poco ma possono fare davvero la differenza se con questo video anche solo una persona decide che vale la pena lottare e farsi aiutare sarebbe già una vittoria adesso però torniamo alla nostra terribile storia ho scoperto che a quanto pare Takahiro usava twitter anche durante il suo lavoro nel quartiere a luci rosse lo utilizzava sempre per adescare ragazze ma per diversi scopi chiaramente e se ciò fosse vero possiamo dire che a questo punto ha già esperienza cioè sa come approcciarsi e sa come muoversi ma questa volta i suoi intenti sono ancora più pericolosi il che è decisamente preoccupante anche perché ottiene un discreto seguito su twitter insomma non tantissimi follower ma date le sue idee comunque decisamente troppi e infatti nell'ottobre 2017 avviene la prima grossa e tragica svolta una ragazza di nome Aiko Tamura sparisce nel nulla era originaria di Tokyo aveva 23 anni e su twitter postava contenuti sull'autolimismo aveva perso sua madre da poco e questa perdita l'aveva completamente devastata fatto sta che nell'ottobre del 2017 questa ragazza non si trova da nessuna parte evidentemente viveva da sola per cui non sembravano esserci neanche dei testimoni nessuno sapeva dove cavolo fosse andata la polizia quindi comincia ad indagare ma in realtà non sa neanche da dove cominciare la ragazza aveva portato il telefono con sé e è solo grazie al suo fratello e alla sua indagine privata che arriveranno a delle risposte il fratello di Aika ci teneva troppo a lei quindi ha iniziato a cercarla ovunque e disperatamente ha chiamato amici conoscenti e li ha mobilitati alla ricerca di una risposta il ragazzo era incazzato nero perché avevano appena perso la madre e se anche Aiko se ne fosse andata per sempre per lui sarebbe stato insopportabile per cui ad un certo punto il ragazzo ha deciso di dare un'occhiata al twitter di Aiko ha guardato il suo profilo i suoi ultimi post e ha anche spiato le persone con cui aveva interagito di recente e alla vista di tutto ciò si è preoccupato da morire quindi in qualche modo alla fine riesce a recuperare la mail e la password della sorella e vede il suo profilo dall'interno ed è qui che scopre la verità sua sorella chattava con un certo hanging pro ovvero chattava con Takahiro il ragazzo allora porta tutte le prove alla polizia che finalmente ha una pista da seguire solo grazie a lui tra i messaggi infatti si viene a scoprire che Aiko aveva fatto un vero e proprio patto suicida con Takahiro gli diceva che non voleva andarsene da sola e in risposta Takahiro la istigava sempre di più al gesto estremo quindi grazie a queste informazioni parte una caccia frenetica per scoprire gli ultimi spostamenti della ragazza in quella zona di Tokyo ma anche negli altri paesi in Giappone ci sono molte telecamere sparse per le varie città e infatti Aiko viene ripresa in una stazione ferroviaria di Tokyo si stava dirigendo a Zama e una volta lì secondo quanto ricostruito è entrata in un appartamento l'appartamento di Takahiro da qui parte l'intero piano per catturarlo ma prima ovviamente devono capire chi è il fratello della vittima quindi sparge la voce su Twitter e chiede aiuto agli utenti nella speranza che qualcuno dica chi è questa persona chi c'è dietro Hanging Pro ancora loro non lo sanno quindi non passa molto tempo e il ragazzo viene contattato da una donna sconosciuta anonima che lo informa di aver incontrato Hanging Pro dice di aver fatto una passeggiata con lui ma di non essere mai andata nel suo appartamento però si mette a disposizione ovvero se il fratello della vittima e la polizia sono d'accordo questa donna avrebbe potuto chiedere ad Hanging Pro di incontrarsi di nuovo questa volta andando anche nel suo appartamento così sarebbe stata una sorta di infiltrata e avrebbe potuto dare nuovi indizi alla polizia l'idea sembra geniale e tutti accettano così arriva l'Halloween del 2017 un giorno già spaventoso di per sé ma per le persone coinvolte in questa storia lo sarà ancora di più la donna incontra Hanging Pro alla stazione dei treni e intanto la polizia in incognito osserva tutto quanto i due si spostano e camminano insieme per un po' per poi dirigersi verso l'appartamento di lui quindi arrivano a destinazione entrano e la polizia aspetta qualche minuto poco dopo gli agenti bussano la porta e dicono che sono lì perché stanno indagando sulla scomparsa di Aiko Tamura lui apre e subito gli chiedono se ha qualche informazione da rilasciare l'uomo però rimane per qualche secondo in silenzio fissa i poliziotti e poi guarda dentro il suo appartamento poi si rigira verso di loro molto probabilmente ha capito tutto quanto per cui anziché opporre resistenza o dare informazioni false reagisce in un modo inaspettato dice ai poliziotti che Aiko è lì in casa sua nel frigorifero gli agenti allora entrano preoccupatissimi e anche abbastanza destabilizzati aprono il frigo e trovano la testa della povera Aiko nel resto dell'appartamento poi trovano alcune scatole e anche altri frigoriferi a quanto pare in tutto trovano otto scatole e dato che l'appartamento è piccolissimo ingombrano parecchio quindi gli agenti pensano subito al peggio e alla fine le aprono al loro interno trovano altre teste varie ossa anche e in generale dei resti umani il tutto coperto dalla lettiera sporca dei gatti come potete immaginare la puzza lì dentro era insopportabile cioè mi viene da vomitare solo a pensarci e a quanto pare anche i vicini si erano accorti del tremendo fetore che usciva da quell'appartamento ma non sapevano cosa fosse ovviamente comunque sempre dentro l'abitazione trovano anche varie armi da taglio come coltelli e seghe e sono tutte sporche e incrostate di sangue vecchio che ormai era praticamente diventato marrone gli agenti quindi chiamano i rinforzi e ispezionano quel mini appartamento degli orrori trovano vari effetti personali delle vittime come carte di credito carte di identità e cose simili e la casa chiaramente viene circondata e delimitata alcuni filmati mostrano decine e decine di poliziotti che lavorano sul caso e sono tutti disgustati fanno avanti e indietro da quell'appartamento mentre i vicini che vengono interrogati raccontano altri dettagli praticamente dicono che la puzza insopportabile proveniva anche dai bidoni della spazzatura in cui il ragazzo aveva buttato la maggior parte dei resti delle sue vittime a quanto pare voleva tenersi a casa solo le teste qualche osso e altre parti raccontano inoltre di aver sempre sentito H24 7 giorni su 7 la ventola dell'aspiratore del bagno sempre accesa perciò ormai non ci sono dubbi sulla sua colpevolezza l'unica cosa da fare è capire quante persone ha ucciso Takahiro viene arrestato e ripreso dalle centinaia di telecamere dei notiziari che subito portano all'attenzione dell'intero Giappone il caso del killer di Twitter si tratta proprio del caso dell'anno il killer di Twitter viene arrestato ma prima di quel momento nessuno sapeva della sua pericolosità e tantomeno dei suoi svariati crimini prima era un uomo qualunque e direi anche insospettabile per cui sono tutti sconvolti ma ora arriviamo al processo perché c'è da dire qualcosa sul processo mio dio il povero avvocato che si è ritrovato a difendere Takahiro punta tutto quanto su un dettaglio molto particolare afferma che le vittime dell'uomo avevano espresso il loro consenso prima di essere uccide e questa è forse la cosa più scontata che potesse dire per difendere il suo assistito eppure si tratta anche di una dichiarazione interessante per esempio se ricordate era stata proprio Aiko ad averlo contattato per prima ed era stata lei a proporgli di togliersi la vita con lui quindi forse qualche vittima consensuale c'era questo però ovviamente non giustifica in alcun modo le azioni di Takahiro Aiko in quel momento andava aiutata era fragile non pensava lucidamente si può dire che non fosse neanche in grado di intendere di volere per cui in realtà lui si è approfittato di questa sua situazione per soddisfare i suoi desideri più oscuri ergo toglierle la vita Aiko è a tutti gli effetti una vittima non c'è neanche da discutere su questo e infatti la difesa non ha retto per niente ma a peggiorare la sua stessa situazione è proprio Takahiro che smentisce le parole del suo avvocato e anzi racconta come sono andate davvero le cose e chiaramente si scava la fossa da solo ma tanto ormai a lui non gliene frega proprio niente della sua vita quindi l'uomo racconta che su twitter reclutava delle giovani donne e diceva loro chiaramente di volerle aiutare a togliersi la vita e loro pare avessero espresso il loro consenso però sono online quindi solo via chat ma quando infine si incontravano di persona nessuna di loro aveva mai acconsentito alla morte ma lui comunque racconta che nonostante il loro dissenso ha sempre proseguito nel suo piano originario non solo uccidendole ma anche abusandosi di loro quindi confessa tutte queste cose al processo e racconta anche che i suoi crimini sono avvenuti per due semplicissime ragioni direi molto banali ovvero per sesso e per soldi si è approfittato sessualmente di tutte le sue vittime e una volta che le ha uccise si è tenuto i loro soldi semplice quanto brutale schietto e diretto grazie all'arrivo delle notizie ai media sappiamo che delle nove vittime ritrovate otto erano donne e uno solo era un uomo si trattava del fidanzato della prima vittima che si presentò ad una cena in cui dovevano esserci solo il killer e lei Takahiro ovviamente si infastidì parecchio dalla presenza di questo qui e pochi giorni dopo quella donna sparì nel nulla fu la prima di molte il giorno dopo la sua sparizione il suo fidanzato andò a bussare a casa di Takahiro per chiedergli dove cavolo fosse finita perché sapeva che i due messaggiavano spesso quindi aveva avuto dei dubbi perciò entrò in quel minuscolo appartamento e non ne uscì mai più il suo modus operandi non cambiava quasi mai parlava con le sue prede su twitter le adescava con la scusa dell'aiutarle a morire poi ci usciva un po' o le invitava direttamente a casa sua e una volta lì le drogava con alcol sonniferi e tranquillanti e quando erano prive di sensi le strangolava per smartire i resti semplicemente le faceva a pezzi e poi le buttava nell'immondizia assurdo ed è altrettanto assurdo che si è riuscito ad uccidere nove persone prima di essere beccato cioè buttava i resti così vabbè la sua vittima più grande aveva 26 anni mentre tutte le altre erano minorenni in età da liceo o proprio appena maggiorenni aveva iniziato questa sua furia omicida appena era andato a vivere da solo in quell'appartamento e adesso vi ricordo un attimo i giochi che faceva con i suoi coetanei da piccolo ecco si strangolavano e lui ora cresciuto e diventato serial killer usa lo stesso metodo per uccidere le sue vittime pensate che sia un caso oppure magari c'è un collegamento ma tornando al processo come avete visto Takahiro si autoaccusa praticamente smentisce i suoi stessi avvocati e ammette ogni cosa senza esitazione ci tiene proprio anche a dire che tutte le accuse a suo nome sono assolutamente vere reali e nonostante i suoi avvocati provino anche a tirare in ballo l'insanità mentale lui smentisce anche questo smentisce ogni difesa praticamente e dice che era pienamente cosciente delle sue azioni tanto che le aveva premeditate da tempo gli psicologi confermano le sue parole e affermano che era effettivamente consapevole di tutto quello che ha fatto la sentenza perciò è chiara e schietta a sua volta è colpevole Takahiro Shiraishi viene direttamente condannato a morte per impiegazione come ultimo discorso in chiusura del processo chiede scusa alle famiglie per quello che ha fatto ma è chiaro come il sole che le sue scuse non sono per nulla sentite non sono sincere e lo ammette anche lui stesso dice che il suo più grande rammarico è essere stato scoperto dalla polizia perché se avesse continuato indisturbato non si sarebbe dovuto scusare con nessuno e non si sarebbe sentito in colpa per niente e per nessuno non lo so ragazzi ci sarebbero tante cose da dire su queste sue parole quasi da farci un video intero a parte la sua assoluta apatia lascia semplicemente senza parole la cosa che trovo assurda è che sia così schietto e totalmente privo di emozioni e alla fine se ci pensate ha anche avverato il suo desiderio anche grazie alla condanna perché la morte è davvero il suo unico interesse non gli importava più di niente la vita per lui non valeva nulla né quella delle altre persone né la sua e se lui non avesse confessato non sappiamo quante altre persone avrebbe potuto uccidere la cosa sicura in tutta questa storia è che Takahiro è ancora vivo ovviamente è nel braccio della morte e potrebbe starci per tantissimi anni di recente ha dichiarato che vorrebbe sposarsi anche se non so quale donna vorrebbe mai stare con lui ma la cosa che mi ha turbato è che ogni giorno riceve tantissime lettere dai fan e forse è proprio per questo che vorrebbe sposarsi perché probabilmente ha capito che qualcuno è davvero interessato a lui e io non ho parole anche se purtroppo non è la prima volta che un serial killer viene venerato così tanto quasi come un dio questa cosa proprio non riesco a capirla eventualmente buona fortuna a chiunque voglia sposarsi con il killer di Twitter niente da dire intanto ai pochissimi che rimangono fino a qui anticipo che presto parleremo di un ristorante cinese che nascondeva un segreto ragazzi atroce quindi spero che rimarrete nei paraggi perché si tratta di una storia davvero assurda per cui se vi ho incuriositi ricordate di massacrare il pulsante iscriviti e adesso parlo con te sei proprio con te se ancora non ti sei stancato di sentirmi parlare ti consiglio questa storia da brividi oppure questa playlist in cui ho raccolto tutte le storie che mi hanno colpito più nel profondo vi ricordo infine di seguirmi anche su Instagram se volete farvi i cazzi miei e niente vi ringrazio ancora e vi do appuntamento al prossimo venerdì con un altro file ciao 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 ciao